A breve a Foiano di Valfortore nel Sanni un nuovo progetto per monitorare la qualità delle acque, di laghe, corsi d'acqua e dell'atmosfera. I dati delle sette centraline verranno poi analizzati da una società partner di Google alla quale verrà affidato il monitoraggio dell'aria. Valori che serviranno poi a censire le aree meno inquinate, che confluiranno nel motore di ricerca che può così contribuire anche per lo sviluppo turistico e paesaggistico del territorio. Come ha rimarcato il sindaco di Foiano di Valfortore, Giuseppe Ruggiero. Google sta creando delle cartine del mondo dove suggerisce ai propri utenti quali percorsi fare in funzione anche della qualità dell'aria. Quindi Google sta iniziando a offrire questi servizi e quindi noi già siamo in contatto per poter creare una mappa che poi sia importante per comprendere anche se quel poco di inquinamento che abbiamo, in quali ore è maggiormente presente. Sistema che dovrà ovviamente monitorare anche i valori dell'inquinamento atmosferico nei pressi di scuole e zone industriali. Mettiamo il caso della centralina della scuola elementare. La mattina dia dei valori più alti perché tutti accompagnano con le macchine i propri bimbi a scuola. Noi potremo limitare magari l'utilizzo delle macchine in quell'ora. Oppure vediamo che nella zona industriale abbiamo delle attività che possono produrre qualche produzione di particelle inquinanti, cercheremo di fermarle.